Benvenuti ragazzi, vi è tornato in questo nuovissimo video, oggi siamo qui e tornati nella reazione alla mia prediction sul campionato di serie A Dopo un anno, perché lo faccio ogni anno da un po' Il campionato è finito e quindi adesso reagiamo alla mia prediction su questa stagione di serie A Quella che vedete è la classifica ufficiale di questo campionato e ora reagiamo alla mia vecchia prediction Ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici Allora, vediamo che nella zona di retrocessione c'è Sampdoria, Cremonese e Elas Verona Invece, nelle coppe europee troviamo la Juventus settima, quindi in Conference League La Roma e l'Atalanta, sesta e quinta, quindi in Europa League E Milan, Inter, Lazio e Napoli tra le prime quattro, quindi Champions League e Napoli campione d'Italia, come ben sapete Ora vi farò vedere la mia vecchia prediction, la grafica non è delle migliori, quest'anno cambierà, la farò molto più bella E vediamo un po' che cosa ho sbagliato, che cosa ho azzeccato Eccola qui, questa qui era la mia prediction Nella zona di retrocessione ho messo Lecce, Spezia e Sampdoria e effettivamente la Sampdoria l'ho presa Lo Spezia ancora non si sa, allora effettivamente ho sbagliato a dirvi una cosa prima Perché l'Elas Verona non è ancora retrocessa, deve giocare lo spareggio con lo Spezia Quindi diciamo che più o meno l'ho preso, più o meno un cacchio visto che l'Elas l'avevo messo decimo Invece è arrivato tra il diciottesimo e il diciassettesimo posto Però vabbè, nelle coppe europee io cosa ho messo? Ho messo l'Atalanta fuori dalle coppe Settima la Fiorentina, sesto il Napoli, quinta la Lazio, quarta la Roma, terza l'Inter, secondo il Milan e prima la Juventus Allora, voglio subito dire una cosa Nel video io me lo sono riguardato per, a parte che qualcosa me lo ricordavo Ma me lo sono riguardato per essere sicuro di quello che avevo detto nel video Perché voi guardate la classifica e dici, ma non capisci niente Sì, se la guardi a fine campionato sì, però era diverso raga Allora, io da quest'anno voglio fare una modifica, ovvero le squadre di metà classifica Non le metterò, farò una grafica solo con le retrocessioni e le zone europee In modo da rendere tutto un po' più bello anche visivamente Così è troppo piena E io ho messo l'Atalanta fuori dalle coppe perché? Perché mi sentivo di premiare la Fiorentina Ok? E effettivamente nella vita reale la Fiorentina non è nelle coppe europee Almeno che non vincerà la Conference League, ancora non si sa Da quando sto registrando io il video E l'Atalanta invece è in Europa Quindi diciamo che qui l'ho cannata Poi, Napoli sesto Oh, raga Non so cosa dirvi, raga Io ho messo sesto Napoli Ma guardate tutte le prediction di tutti gli youtuber del mondo Tutti hanno messo Napoli massimo quinto, non di più Perché? Perché sì Perché hanno venduto Insigne, Mertens, Fabian Ruzzi, Cullibali Li hanno venduti tutti, 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 tutti E tu cosa pensi? Non fai una stop stagione Invece un allenatore molto bravo Come Luciano Spaletti che ora se n'è andato Vediamo cosa succederà l'anno prossimo Con dei fenomeni in squadra Cioè Kvara, Schelia o Z-Man Io mi ricordo che nel video ho detto Hanno preso lì Kvara, Kvara, Schelia Però avevo detto che tipo non è Non mi sembrava chissà cosa Invece il miglior giocatore della Serie A Per farvi capire O Z-Man che è il capocanone della Serie A Kim, Fenomeno, Zambolo, Bot Ma tutti, tutti, tutti Quindi mi dispiace Tifosi napoletani non me lo aspettavo Complimenti La Lazio l'ho messa a quinta E quindi anche qui ho sbagliato Complimenti alla Lazio che si è qualificata in Europa La Roma proprio all'ultimo Si è qualificata in Europa League Dopo che è stata scammata in finale Contro il Siviglia Io ho messo l'Inter terzo E Diciamo che l'ho azzeccata o no No, non è vero Fatemi controllare Si, 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 si L'ho azzeccato L'Inter è arrivata terza E Beh, sinceramente me lo aspettavo Non mi aspettavo che Vincesse il campionato L'ho messa terza Sì, perché l'Inter Allora l'Inter Da quando non c'è più Conte Che quindi aveva vinto lo scudetto Che lui c'ha una mentalità diversa Rispetto a Simone Inzaghi Cioè Simone Inzaghi è un buon allenatore Ora io ancora non Sto registrando molto prima No vabbè, molto no Però sto registrando prima Della finale di Champions Quindi non so come andrà Però Comunque La stagione dell'Inter Io la stavo valutando In Serie A Ed è stata Una buona stagione Diciamo Perché comunque terzo posto L'obiettivo della Champions È stato raggiunto Direi che ottimo Secondo posto ho messo il Milan Ho sbagliato È arrivato quarto Ma Io mi aspettavo che Dopo essere stati Campionati d'Italia Il Milan Provava di nuovo A vincere Cosa che non è successa Ma me lo aspettavo Infatti l'ho messo lì Lo volevo anche mettere Al primo Diciamo che Un po' Così Per Scaramanziano L'ho messo Però Allora Io Ero Dell'idea che il Milan Passava i gironi di Champions Al massimo Poi basta Invece è arrivato in semifinale Cioè È una pressione comunque Quindi Ci sta che alla fine In campionato Abbiano perso un po' di punti E soprattutto Gli acquisti Sono stati Un flop Perché Veramente Mi immaginavo Hanno perso che sì Fortissimo L'hanno rimpiazzato Con nessuno Perché non hanno comprato nessuno L'unico acquisto che hanno fatto È stato da Kettler L'unico top Acquisto Che ha fatto un assist E Quindi Vabbè Forse Orighi Ha segnato qualcosina Ma non ricordo Ma vabbè E adesso Arriviamo Al pezzo più importante La Juventus Prima In classifica Ora Io ragazzi Voglio dirvi una cosa Cioè Sembrerò scema D'avere messa la Juve Prima Però Se ci pensate Se la Juventus Non fosse stata penalizzata Sarebbe seconda Quindi O terza Non lo ricordo Quindi tutto sommato Non è che l'ho cannata proprio Così tanto E da prima settima Sì Ma Se non gli avessero tolti i punti Sarebbe seconda Da prima a seconda Ci può Ci può stare Io L'ho messa prima Perché l'ho anche detto Nel video Non lo so riascoltato Ho detto La Juventus Come squadra Come singoli giocatori Ok È la più forte A mani basse Della Serie A Ok E lo penso tuttora Perché Anzi Tuttora Forse Appare con qualche squadra Però Comunque penso Ancora adesso Che sia una delle migliori squadre Per giocatori singoli Una delle migliori d'Italia Poi ovvio Vanno in campo Con dei dei di gioco Brillanti Io sono contento Che sia arrivata settima Chi mi segue da tanto lo sa Io Tifo Milan Ma Stimpatizzo anche Juve E E quindi Cioè Da una parte Mi dispiace Che ci sia successo questa roba Ma da una parte Sono felice Perché Se continuava Ad arrivare In Euro C'è in Champions Se continuava ad arrivare Quarta In Champions Anche se il gioco Fa schifo Perché Se non gli avessero tolti i punti Erano secondi Ma comunque Fa schifo Come giocano Preferisco Che arrivino Ottavi Decimi In classifica Purtroppo sono settimi Speravo Fuori dalle coppe Però Vabbè Settimi ci sta Anche in conference Ok Così da Vendere tutti E rifondare la squadra Con i giovani Secondo me Sarebbe bello Poi invece Con il Milan Farei un'altra cosa Però magari lo faremo In un altro video Fatemi sapere Ragazzi Voi Anzi Aspetta Sì no Vabbè Fatemi sapere Voi ragazzi Nei commenti Se avevate magari Fatto una prediction Secondo voi Tempo fa Chi poteva vincere il campionato E siete contenti Che Della classifica Attuale Ovvero Questa qui O se magari La vostra squadra Non è Tra le prime quattro Fatemelo sapere Questa era la mia classifica E Vi dico che No Azzeccate due La Sabdor Che non è Che ho azzeccato la posizione Ma ha azzeccato la retrocessione Quindi l'ho azzeccata E poi Ho azzeccato L'Inter Che è arrivata terza E Basta Basta Perché le altre squadre In campionato Non c'ho voglia Di controllare Se l'ho azzeccata E l'Empoli L'ho azzeccato È arrivato quattordicesimo L'ho azzeccato La Salernitana Quindicesimo L'ho azzeccata L'ho azzeccato quelle Basta Però Tutto sommato Ci può stare No Quest'anno la farò meglio Ad agosto Quando sarà La farò molto meglio La farò molto meglio Comunque presto Faremo anche di video Su magari Il calciomercato Che farei nelle varie squadre Di Serie A Vediamo Ci provo a farlo Se vi piace Poi lo continuo Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate un bel mi piace Condividete Lo video con tutti i vostri amici Io ragazzi Vi ricordo che oggi Sarò in live Perché esco I primi teaser Nella nuova season Di Forrent Quindi vi aspetto Noi ci becchiamo In un prossimo video O in una prossima live Bella